il gatto stivalato ai tre figli che avea un mugnaio non lasciò altro che un mulino un somaro e un gatto la divisione fu presto fatta senza bisogno di notaio o procuratore che s'avrebbero mangiato essi tutto il misero patrimonio il maggiore ebbe il mulino in secondo l'asino e l'ultimo il gatto non si consolava a questi che gli fosse toccata una così magra porzione miei fratelli diceva potranno mettendosi insieme guadagnarsi onestamente la vita per me mangiato che avrò il gatto e fattomi della sua pelle o manicotto bisognerà che muoia di fame il gatto che udì queste parole senza però farne le viste gli disse in tono serio e posato non vi affliggete padroncino mio datemi solo un sacco e fatemi far un par di stivali per andar nelle macchie e vedrete che la vostra sorte non è poi tanto cattiva quanto credete benché poco ci contasse il padrone del gatto non disperò di cavarne un certo aiuto tante bravure gli avea visto fare per acchiappare sorci e topi ora sospendendosi per le zampe di dietro ora facendo il morto sulla farina avuto il fatto suo il gatto si infilò gli stivali si mise in collo il sacco ne afferrò i cordoni con le zampe davanti e se ne andò in una conigliera dove i conigli abbondavano empì il sacco di crusca e di cicerbite e sostenendosi come se fosse morto aspettò che qualche giovane coniglio poco esperto delle malizie di questo mondo si insinuasse nel sacco per mangiarvi quel che vi aveva messo coricatosi appena il colpo fu fatto uno storditello di coniglio entrò nel sacco e mastro gatto strinse subito i cordoni lo prese e lo uccise senza misericordia tutto glorioso della preda se ne andò dal re e domandò udienza lo fecero montare agli appartamenti di sua maestà e là fatto al re un profondo inchino disse il gatto ecco maestà un coniglio di conigliera che il signor marchese di carabas così gli venne in testa di chiamare il suo padroncino mi ha incaricato di presentarvi dirai al tuo padrone rispose il re che del regalo son molto compiaciuto e lo ringrazio un'altra volta andò a nascondersi in un campo di frumento tenendo sempre il sacco aperto e quando due pernici vi furono entrate tirò i cordoni e le prese tutte e due poi se ne andò dal re e glielo offrì come avea fatto dei conigli il re accettò volentieri le due pernici e gli fece dare una mancia per due o tre mesi continuò il gatto a portare al re di tanto in tanto un po' di caccia da parte del suo padrone saputo un giorno che il re doveva andare a spasso in riva al fiume insieme con la figlia che era la più bella principessa di questo mondo disse al suo padroncino se mi date paderetta la vostra fortuna è fatta non avete che a fare un bagno nel fiume in un posto che vi indicherò e poi lasciate fare a me il marchese di carabas seguì il consiglio del gatto senza indovinare a chi potesse servire mentre faceva il bagno si trovò a passare il re e il gatto si die a gridare con quanta ne aveva in gola aiuto aiuto il marchese di carabas s'annega a quel grido il re si affacciò allo sportello riconobbe il gatto che tante volte gli avea portato della caccia e ordinò alle sue guardie di accorrere subito in aiuto del marchese di carabas mentre tiravano fuori dall'acqua il marchese di carabas il gatto si avvicinò alla carrozza e disse al re che due ladri erano venuti e avevano portato via i vestiti del marchese per quanto egli si sgolasse a gridare al ladro il furbaccio li aveva nascosti sotto una grossa pietra il re ordinò subito agli ufficiali della guardaroba di andare a prendere il più sfarzoso vestito che vi fosse per il signor marchese di carabas a lui stesso fece il re mille gentilezze e poiché i bei vestiti rialzavano la bella figura del giovane la figlia del re lo trovò molto di suo gusto e non appena il marchese di carabas le ebbe rivolto due o tre occhiate rispettose ma un po' tenere se ne innamorò fino alla follia il re se lo fece montare in carrozza e lo volle compagno della passeggiata il gatto tutto lieto di veder riuscire il piano architettato si die a fare il battistrada e avendo visto dei contadini che falciavano un prato disse loro buona gente che falciate se voi non dite al re che questo campo appartiene al signor marchese di carabas sarete trinciati e tritati come la carne per le salsicce non mancò il re di domandare ai falciatori a chi apparteneva a quel prato che falciavano al signor marchese di carabas risposero tutti ad una voce tanto avevano avuto paura della minaccia del gatto avete costi una bella eredità disse il re al marchese di carabas voi vedete maestà rispose il marchese è un prato che tutti gli anni mi dà un reddito abbondante mastro gatto che correva sempre avanti incontrò dei mietitori e disse loro buona gente che mietete se voi non dite che tutto questo frumento appartiene al signor marchese di carabas sarete trinciati e tritati come carne di salsicce il re che passò subito dopo volle sapere di chi fosse tutto quel frumento del signor marchese di carabas risposero i mietitori e il re se ne rallegrò di nuovo col marchese il gatto che precedeva sempre ripeteva la stessa storia con quanti incontrava e il re stupiva dei grandi possedimenti del signor marchese di carabas mastro gatto arrivò finalmente ad un bel castello il cui padrone era un orco il più ricco che mai fosse poiché tutte le terre già dal re attraversate dipendevano da quel castello informatosi di quel che fosse cotestorco e di quanto sapesse fare il gatto domandò di parlargli dicendo che non avea voluto passare così vicino al suo castello senza aver l'onore di fargli riverenza l'orco lo accolse con tutta quella affabilità di cui un orco è capace e lo fece riposare miau mi è dato ad intendere miau disse il gatto che voi avete il dono di mutarvi in qualunque sorta di animale che potete per esempio diventare leone o elefante è vero rispose burbero l'orco e per dimostrarvelo adesso vedrete come mi trasformo in leone il gatto fu così spaventato di vedersi davanti un leone che spiccò un salto fin sulle grondaie non senza fatica e pericolo a motivo degli stivali che non erano buoni per camminare sui tetti qualche tempo dopo visto gli mutar forma il gatto ridiscese e confessò di aver avuto una gran paura mi hanno pure assicurato disse ma io non ci credo miau che voi potete anche prendere la forma dei più piccoli animali di cambiare per esempio in topo o sorcio vi confesso però che la cosa mi pare impossibile impossibile esclamò l'orco adesso vi fa vedere e detto fatto si mutò in un topolino che si dia a correre sul pavimento subito il gatto gli saltò addosso e ne fece un boccone il re intanto passando per il castello dell'orco volle entrarvi il gatto che udì il rumore della carrozza sul ponte elevatoio corse incontro e disse al re benvenuta amistà nel castello del signor marchese di Carabas miau come signor marchese esclamò il re anche questo castello è vostro niente può essere più bello di questo cortile e di tutte le fabbriche circostanti vediamo nell'interno di grazia il marchese diè la mano alla principessina e tenendo dietro al re che saliva entrarono in un'ampia sala dove trovarono una lauta colazione che l'orco avea fatto preparare per certi suoi amici che doveano venire quel giorno stesso ma che non aveano osato entrare sapendo della presenza del re ammaliato ammaliato dalle buone qualità del marchese di Carabas come già la principessina ne andava matta e vedendo i molti beni da lui posseduti il re gli disse dopo aver bevuto cinque o sei bicchieri di vino sol che vogliate signor marchese voi potete divenire mio genero il marchese facendo inchini sopra inchini accettò l'onore che il re gli faceva e quel giorno stesso si sposò la principessa il gatto divenne gran signore e non corse più dietro i topi che per solo passa tempo morale che che valga una ricca eredità che ci venga di padre in figlio valgono assai più per i giovani l'industria e l'accortezza altra moralità se il figlio di un mugnaio conquista così presto il cuore di una principessa e si fa guardare da lei con languide occhiate gli è che il vestito l'aspetto e la giovinezza non sono mezzi di poco conto per ispirare una tenera sentenza e la giovinezza 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 e la giovinezza